Io credo che ci siano dei punti molto chiari che l'amministrazione comunale conosce, in primis il sindaco, i punti che ho letto stamattina sul giornale sono gli stessi di cui il sindaco parla, ha coscienza perfettamente che già come giunta stiamo affrontando, ovviamente coadiuvati da un Consiglio Comunale che nelle fasi cruciali, si è visto anche su un bilancio che è stato approvato prima dei tempi, in un momento record, stiamo facendo un buon lavoro e credo che davvero insieme al Consiglio Comunale i punti che vanno attenzionati, che sono molto chiari e molto evidenti, si stiano già affrontando. Il linea su molto, ma non su tutto, sulle ciclabili la posizione mi pare abbastanza diversa. Ma ho letto quello che ho letto che dice semplicemente che invece che farla sulle vie principali va fatto sulle vie secondarie, è un ragionamento, un dibattito che c'è anche in tante città d'Europa, che credo che, anzi che è stato superato in tante città d'Europa e credo che invece l'amministrazione stia lavorando appunto in linea con Parigi, con Amsterdam, con tante altre realtà, però ovviamente mobilità non è un mio tema, per cui su questo rimando a chi di dovere.